Perfetto ragazzi! No! Perne! Ma muoio! Ricarico! Perfetto! Perfetto! No! Come? Sparano! Lei non vede il nemico! Non è possibile! Mi si è rotto il cesso! Ma tu come ho ucciso anch'io! Oh che cazzo devi scherzo io! Oh! Madonna bello bello bello! Bellissimo! Mi ha ucciso uno! Questi cazzo incide! No no questo è mio più io! Eh si ho fatto il fioretto! Zucca! Astardi tutti guaiti guaiti! No! Cosa! Cosa fai? Come sono morto? Ma in gi... sto gioco di... Mi ha cacciato! Perché? Mi ha cacciato dagli italiani! Mi ha messo gli austriaci! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Ah! 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 Che be' Niente! Questi... L'hanno scontato! Lo sapevo! No! Mark! 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 Marko! No! Ci sono da io! Non ci farà mai il processo di stile! Lo provi! No! Non ci farò adesso! Assusta! Compustino! Oh! Non ci farò! Non ci farò! Non ci farò! No! Non ci farò! Io... Io vado, ma che... Io... Io rush... Non me ne fotte niente! Oh! Forco! È fermo! è andato ragazzi come me lo fa? non ci capisci che cazzo visto con la maschera di te oh no ma è troppo ti torni oh illukea no io non des io mo ci ho fatto il fioretto allora ragazzi dovete capire che te quando si giocano nei panni dei nomi nooo si innesco vai tranquillo ci sono anche i oh fucking yes mi hanno colpito ma da dove? non lo so non ce lo so ho incostruito anche il telefono non cazzo oppi cazzo la ah 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 è una è un'articchieria mi diceva perico sono morto nooo la gente l'ha rubata la gente l'ha rubata e si scu... tutto bene sei esploso? no ok chiede oh non cazzo non cazzo comunque cazzo proprio di è alto no e di là non c'è manco botte significa che fanno proprio cagare e di là che fanno mi l'ho mancato mi l'ho mancato non cazzo non cazzo ma ho i due che ci ha ah ah i vestiti ma vabbè ho fatto il crash finale ho scuso un ballo di 7-11 che bribido siii! forza natomi g. nice